Affrontare oggi il melanoma significa per il paziente e il familiare avere molte domande e il progetto melanomi è nato proprio con l'intento di dare una risposta a questa necessità informativa e associativa dei pazienti. Così a Messina se ne è parlato durante l'incontro del progetto melanomi le differenze che contano con sessioni di confronto tra medici e pazienti durante le quali gli specialisti hanno affrontato molti aspetti legati alla malattia dagli approcci terapeutici agli stili di vita con ampio spazio alle domande. Negli ultimi anni infatti grazie ai progressi della ricerca scientifica sono migliorate le conoscenze sui diversi tipi di melanoma ed oggi è possibile caratterizzare questa malattia a livello molecolare ovvero partire dal DNA. Si è scoperto così che i melanomi non sono tutti uguali ma ne esistono i diversi tipi ciascuno con caratteristiche diverse che lo identificano permettendo una cura minata e specifica. In questi casi l'approccio terapeutico è radicalmente diverso non solo chemioterapia ma farmaci intelligenti che utilizzando i bersagli molecolari specifici hanno dimostrato di essere più efficaci e meno tossici nei pazienti che presentano questa specifica mutazione. L'obiettivo è stato detto è quello di essere più vicini ai pazienti e di renderli sempre più informati sulla gestione della loro malattia realizzando un'applicazione del progetto melanomi con alcune delle principali informazioni emerse durante gli incontri su alimentazione, stile di vita e stati d'animo veicolate attraverso degli infogame e contenente degli utili applicativi per la gestione della patologia come gli avvisi per l'assunzione della terapia o per le visite specialistiche previste a coordinare il progetto messinese. Sta del professore Vincenzo Adamo direttore del dipartimento di onco-ematologia dell'azienda Papardo con la collaborazione dell'associazione pazienti AIMAME.